Sei pronta? Cos'è DiscoverEU, giusto? DiscoverEU è un'opportunità per i giovani che hanno compiuto i 18 anni di viaggiare per l'Europa con mezzi ferroviari o mezzi alternativi in modo gratuito. Perché hai voluto fare un'esperienza all'estero, in particolare questa? Ho avuto l'opportunità di partecipare a questo concorso e di essere una tra i vincitori. Ho approfittato di questa esperienza per poter visitare dei luoghi, secondo me, culturalmente molto interessanti. E poi ho approfittato anche per conoscere delle usanze e di assaggiare dei cibi tipici del luogo. Ho fatto tre tappe, Lione, Madrid e Barcellona. Mi sono prima interessata del luogo in cui alloggiare, quindi gli ostelli, e le cose da visitare, che era disponibile visitare in quel periodo. Le sfide che hai dovuto superare, difficoltà che hai incontrato? Ho incontrato molte persone che non sapevano l'inglese. Oltre a questo ho avuto difficoltà in alcuni treni, in quanto una parte della Francia era in sciopero e quindi dei treni sono stati sopprezzi. Quelli competenti senti di aver sviluppato dopo un viaggio così? Una maggiore organizzazione giornaliera, una più fluida capacità di comunicare sia in lingua straniera, ma anche con altre persone e magari autorità locali. Che consiglio daresti ai ragazzi che vogliono partecipare a un'esperienza del genere? Imparate bene l'inglese di base perché è essenziale. Cercate di non viaggiare in gruppo e approfittatene per fare nuove conoscenze. Qual è la domanda? Il tuo viaggio in una frase? Treni e libertà. Fai un saluto? Fai un saluto?